Ciao, mi chiamo Domenico Romano, ho 14 anni. Ho letto la vostra lettera e sono felice perché questo Natale farete felici tanti bambini con un bel regalo da mettere sotto l'albero o per alcuni aprirlo in ospedale. Io sono stato bravo quest'anno, manca un po' un monello. Però il regalo l'ho ricevuto lo stesso dalla Madonna. Settimane fa mio papà mi ha portato in un paesino tra le montagne e lì ho chiesto il mio regalo. E oggi l'ho ricevuto perché i bravissimi medici che mi hanno curato mi hanno detto che sono guarito. Ho provato questa madonnina per me e continuerò a farla per tutti i bambini che sono in ospedale. Io vi ringrazio per il vostro pensiero, ma desidero che il pensiero che avete riservato a me venga donato ad un altro bambino più bisognoso di me perché io il regalo per Natale l'ho già ricevuto ed è quello che desideravo da quando mi sono ammalato. Vorrei che per Natale tutti i bambini malati guariscono che tutti i bambini poveri abbiano un posto o un giocattolo con cui giocare sempre. Infine desidero anche io in futuro abbia un lavoro per donare a chi ha bisogno. Buon Natale da domenico! Ciao! Ciao a tutti! 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 Grazie a tutti.